Sono qua, sono dietro diciamo a 120 gradi ambisonics, forse di più perché sei quasi a 150, 90, eh sì, non è propriamente dietro, io sono invece davanti a sinistra a circa 30 gradi front left, aspetta che giro, ecco adesso sono indietro a destra circa back left, io mi sono messo davanti a 45 direi, perfetto, direi che può bastare, a meno 45.